il premio è sempre uno, hai preso quello giusto, bravo eccolo qua, premio a Tony Sant'Agata aspetta, magari lo facciamo consegnare dal sindaco eccolo qua, sindaco, consegno il premio a Tony Sant'Agata però un grazie a Tony Sant'Agata, devo dire perché è dovuto perché ha portato il nome di Sant'Agata di Puglia in tutto il mondo ha fatto conoscere il nostro piccolo paesetto e per me è un piacere, un onore essere questa sera qui con Tony Sant'Agata perché anche io lo ricordo da bambino e ricordo sempre speciale 3 milioni quando portasti tutti quegli artisti a Sant'Agata ricordo un Claudio Baglioni, giovanissimo, ero proprio piccolino ancora grazie a nome di tutta la piccola comunità santaghetese io sono vestito un po' più pesante perché il nostro paesetto è a 800 metri d'altezza quindi siamo nel pre-appennino d'Auno grazie ancora per aver portato così in alto e nel mondo il nome del nostro bellissimo paese grazie 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 No, no.